bentornati benvenuti se è la prima volta che ascoltate i miei podcast io sono diretta martorana vi invito ad iscrivervi mettere like lasciare un commento se trovate i contenuti interessanti andiamo a vedere il canto primo della purgatorio di dante vi ricordo che sono presenti anche altri podcast relativi a dante e ad altri canti della divina commedia dante e virgilio abbandonano l'inferno per approdare quindi al purgatorio è la domenica di pasqua il giorno della risurrezione ed è questo il tema fondamentale principale del canto la risurrezione delle anime e il percorso di purificazione che queste compiono per approdare al paradiso ci troviamo nel secondo regno dell'oltretomba e il canto è scritto in fiorentino il canto primo quindi ci offre l'opportunità di vedere l'inizio del viaggio di dante nel secondo dei regni ultraterreni al verso settimo troviamo il verbo resurga che riassume quello che sarà l'argomento centrale dell'intera cantica ovvero la risurrezione delle anime e il loro percorso di purificazione di spiazione dei propri peccati per ottenere la salvezza e ascendere al paradiso questo vediamo che viene ripreso anche nell'ambientazione spazio temporale del primo canto è la domenica di pasqua il giorno in cui cristiani festeggiano la risurrezione di cristo e la spiaggia dove troviamo virgilio e dante è avvolta dalla luminosità dell'alba questa è un allegoria della luce della grazia divina che abbraccia le anime del purgatorio salve dalla dannazione eterna e simbolo anche della speranza ritrovata dopo le tenebre infernali siamo quindi in un ambiente rasserenato colmo di fiducia e questo produce un innalzamento dello stile che caratterizza l'intera cantica andiamo a vedere i protagonisti marco porcio catone detto il giovane o l'uticense per distinguerlo dall'omonimo antenato catone il censore nato a roma nel 95 avanti cristo prese parte alla vita politica della città diventando prima questore poi tribuno della plebe e infine pretore nel 54 avanti cristo estremo difensore delle libertà politiche e repubblicane si oppose fermamente al primo trombierato di crasso cesare pompeo vi ricordo i podcast di storia anche sulla guerra civile romana relativi quindi a questo periodo infatti quando scoppiò la guerra civile tra quest'ultimi quindi tra cesare e pompeo riconoscendo nelle mire dittatoriali di cesare un aperto attacco agli ideali repubblicani dopo la sconfitta di pompeo a tapso nel 46 avanti cristo catone decise di togliersi la vita utica città africana collocata a nord di cartagine ecco quindi una domanda perché dante rende dopo aver ricostruito la storia di catone l'uticense quest'ultimo il custode del purgatorio ovvero del regno in cui le anime sono destinate a salvarsi lui è un pagano è morto suicida e avverso alla figura di cesare e con essa quindi a quella dell'impero che è cara a dante e questo crea un'opposizione rispetto all'ideale valori del poeta in realtà però nel medioevo cristiano la figura di catone era ricollegata a un modello di vita sia dignitosa che austera integra forza morale rifiuto dei beni terreni e tutti i valori quindi fortemente cristiani il suicidio secondo dante è un gesto giustificabile perché compiuto con il fine di salvaguardare la libertà civile precorritrice della libertà interiore a cui tutte le anime del purgatorio aspirano e necessitano per poter ascendere al paradiso quindi all'interno del canto primo del purgatorio catone assume i connotati di un modello di perfezione umana al suo più alto livello terreno quindi libertà assoluta dalle passioni anteposizione del bene comune al proprio proprio per questo motivo al verso 75 dante predice al guardiano del purgatorio l'assunzione in cielo dopo il giudizio universale e questo trattamento non è stato riservato neanche al suo maestro virgilio bene per quanto riguarda questo podcast è tutto vi ricordo di scrivervi mettere like e commentare se trovate contenuti interessanti supportando i miei podcast